Voglio augurare a tutti voi una Santa Domenica delle Palme e che sia per tutti noi come l'ingresso di Gesù a Gesusalemme e osanniamo l'ingresso della speranza nei nostri cuori. Noi supereremo questo momento e ne dobbiamo essere convinti, ma dobbiamo essere attrettanto convinti che questo momento si supererà cercando di continuare a stringere i denti e a limitare le nostre libertà principali. Questo mese d'aprile sarà fondamentale per poter aprire una fase finalmente diversa, rappresentata dal mese di maggio. Continuiamo con tanta pazienza, continuiamo anche con tanta riflessione, manifestiamo la nostra solidarietà e il nostro sostegno a chi è in trincea, da chi è nei presidi ospedalieri, da tutti i medici, infermieri, tutti i supporti che consentono al sistema sanitario di assisterci, alle forze dell'ordine, a tutti coloro che garantiscono i servizi essenziali. Noi da casa stiamo vicino a loro e mi permetto di dirvi, preghiamo anche per loro, andiamo avanti perché assieme supereremo questo momento che lascerà un segno e il segno che lascerà è quello che ognuno di noi sicuramente apprezzerà ancora di più quella che è la fratellanza, il contatto umano, la libertà di uscire, tutto quello che in questo momento non possiamo fare, non ci possiamo toccare, non ci possiamo abbracciare. e io penso e tutti noi penseremo a quelle occasioni quando potevamo stare assieme, potevamo discutere, guardarci negli occhi, ma ci siamo fatti distrarre da ben altro. Buona Domenica delle Palme a tutti voi.